Cari testatori ben trovati, siete collegati con lo stadio comunale di Rodove, si sta per disputare l'andata del terzo turno playoff di promozione che vedrà opposte Rodense e Vertovese, la squadra seriana ha battuto per 2 reti a 1 a Nembro, la Gavarnese sabato scorso, è passata al terzo turno, oggi cercherà di fare bene nella sfida d'andata di ottenere un stato positivo per poter disputare al meglio il mezzo di ritorno che sarà mercoledì a Vertova alle 16 a Rodense, squadra guerrita, ha perso lo spareggio, bassevata prima paio di metà in campionato con il Casirate e poi il 2 a 0 ai playoff con l'Olimpia Rodense e chiaramente oggi vuole tenere un stato positivo per poter giocarsi le sue chance nella mezzo di ritorno, per potersi avvicinare all'eccellenza, mentre le squadre sono già schierate, Vertovese con la consueta divisa azzurra, fatta opposta, divisa arancio-nera per la Rodense, partiti, nel frattempo vi leggo le informazioni con i padroni di casa che si schierano in campo con 1 Mantovani, 2 Borsani, 3 Sala 4 Iso, 5 Zanus, 6 Oldani, 7 Colombo, 8 Castelnuovo, 9 Beretta, 10 Caruso, 11 Di Noto Il mister è Paolo Crucitti, risponde la Vertovese con 1 Nodari, 2 Luzzana, 3 Riva, 4 Bonetaldi, 5 Fusa Bassini, 6 Guardi, 7 Legrenti, 8 Shortino, 9 Patelli, 10 Bergamelli, 11 Messe D'aglia Il mister è chiaramente Giorgio Alberti, abito della mezzo, invece il signore Matteo Ceresini della sezione di Lodi Adesso, prima palla interessante dentro l'area, messa da Capitano Luzzana, non la tiene Gualdi, subito Verdovese, che prova a spingere, in queste prime battute di match, pioggia battente sul campo di Campo non in perfette condizioni, che chiaramente adesso è ulteriormente appesantito dalla pioggia Che è cominciato a cadere una mezz'oretta prima, dall'inizio della sfida Del match d'andata, del terzo turno playoff di promozione tra Rodense e Vertovese, abbiamo già detto Vertovese che dopo aver superato il primo turno con lo 0 a 0 contro la Prada Lunghese, derby seriano In cui la Vertovese aveva a disposizione 2-0 su 3, in quanto era arrivata davanti per gli sconti diretti in classifica a pari punti, ma appunto davanti per gli sconti diretti La Vertovese aveva vinto 2 a 1 l'andata a Prada Lunghese in campionato, prima di parezzare in casa 1 a 1 in ritorno La semifinale, o meglio, la finale del proprio Zirone, il secondo turno, con la Gavarnese a Nembo, dove la squadra di Alberti aveva dovuto vincere necessariamente per passare il turno L'ha fatto, 2 a 1 con una grande prova di forza, e oggi cerca, chiaramente, un'importante subito in questa sfida di un'importanza straordinaria Per riuscire ad avvicinarsi al sogno eccellenza, vediamo chi vincerà in questa data di turno Al quarto turno beccherà il Casazza, vincitore della Coppa Lombardia, ma 90 su 100 le squadre che accendono al quarto turno vengono poi ripescate Quindi anche la pertente della finale, solitamente può poi accedere all'eccellenza sulla destra, gran rapidità, come di consueto da parte di Patelli Palla che sul secondo pallo Shortino non riesce a raccogliere, ma Vertovese che ha iniziato sicuramente con buon piglio la partita Possesso palla, ha insistito, il giocatore di Maglia Azzura, Rodesse invece più chiusa a contenere Chiaramente dopo 2 minuti e 50 siamo ancora sullo 0-0 Adesso possesso palla, ha deciso da Castelnuovo E quindi profondo con buone taglie che però ha in netto vantaggio nei confronti di Beretta Poi spara lontano, Fusa Bassini La aggancia bene, Iso mentre avete visto che già il terreno è inzuppato d'acqua La palla non rimbalza in maniera regolare Pioggia che è durata una mezz'oretta circa, ma davvero battente Adesso ancora Iso nel traffico Palla a sinistra per Sala Faccia già bene, stavolta la Rodense poi va a chiudere la riva A metterla in rimessa laterale Delle ambizioni della Vertovese L'anno scorso è sconfitta proprio al terzo turno dalla bassa bresciana Quindi si tratta di una seconda chance importantissima per la squadra seriana Per volare in eccellenza Il secondo anno consecutivo Grande protagonista nei play-off Chiaramente non sarà facile Di fronte troverà una Rodense, come già ha letto, agguerita Rodense l'anno scorso retrocessa dall'eccellenza Era nel girone della Vino Gandino E poi quest'anno, stagione importante in promozione Primo posto a pari di metto col Casirate Sconfitta nello spareggio Nel play-off si è ben comportata Ha vinto Correggono non il Casirate ma la Castanese La squadra che ha vinto Lo spareggio appunto Poi Rodense che Nel play-off ha battuto per 2-0 l'Olimpia Accedendo quindi al terzo turno La squadra milanese Ha chiaramente l'ambizione di far bene Per ritornare Un solo anno di ritardo A disputare il campeonato d'eccellenza Adesso Vertovese sulla destra Con Sciottino Se ne va il numero 8 Poi palla a rimocchio Pergamelli Grande assistenza dentro l'area Per il traversone da parte di Patelli Bravo però Mantovani non si fa sorprendere Presa sicura sul suo palo Poi rinvio profondo del portiere Adesso a cercare Beretta Duello con Bonetalli Si aiuta con le mani Beretta dietro di gara Non si fa sorprendere A pochi passi dall'azione Fisca Calcio di punizione In favore Della Vertovese Che lascia Almeno inizialmente Fuori Spampatti Grande protagonista Nella sfida Con la Gavarnese Non solo per il rigore Dell'1-0 realizzato Ma anche per Una prestazione Di grande sostanza Di grande aiuto Alla squadra In entrambe le fasi Spampatti Appunto oggi Inizialmente In panchina Il preferito a lui Messe d'aria Cercato adesso dentro l'area La shortina Ma anticipato Poi riesce in qualche modo A liberare la Rodense Rimessa laterale In favore Della Vertovese Schierata in campo Con il 4-3-3 Davanti a Nodari Anche lui Il gran protagonista Con la Gavarnese Con almeno due interventi Determinanti Poi Adesso la capitale Luzana Assista Fusara Bassini Centrali Bonetalli Che si sta comportando Benissimo In un ruolo Non probabilmente suo Lui che è un terzino Naturale Tutto Insieme a lui Riva Esperienza Anche in categorie superiore Poi Sotto campo a tre Con Bergamelli A fare da volante Come di consueto Attenzione perché Tutto è volare Anzi no Ci ha perso un attimo Il guarda linea Poi alza la bandiera E quindi Calcio di punizione Che sarà in favore Della Vertovese Diciamo Bergamelli volante Avanti difesa Come di consueto Lo soffia anche Legrenzi e Guardi E poi davanti appunto Oltre A Messe D'Aglia Che è ritornato titolare Da una parte Shortino E dall'altra Patelli Confermatissimi Dopo la sfida Settimana scorsa A Nemo Patelli Protagonista Assoluto Della sfida Fatto partire L'azione Per il rigore Del vantaggio Poi ha segnato Anche il 2-0 Patelli letteralmente Incontenibile Con la sua rapidità E la sua tecnica La sua attenzione Però alla Rodense Fa calciare Beretta Non colpisce Però al meglio Il numero 9 Quindi palla alta Con il colomato Dice 7-30 Al primo tempo Sempre 0-0 Un match che è iniziato Subito su Buoni ritmi Per il 2-0 Che fa Con più continuità La partita Rodense che Agisce di rimessa Mentre adesso Va al rinvio Nodari Spada milanese Sicuramente Nell'attacco Il suo punto di forza Ben 60 gol Segnati In campionato Ma anche 42 subiti Quindi difesa Non imperforabile Adesso Messe Dalia Per il taglio Da parte Di Gualdi E il suo destro Con la deviazione In calcio d'angolo Da parte di Mantovani Prima chance Importante Della sfida Capita sui piedi Dalla Vertovese Con Gualdi Come sempre Lui Bravissimo Nell'inserirsi Non solo Nel lavorare In fase di opposizione Ma capace anche Di essere determinante In area Tantissimi gol In questo campionato Molti decisivi Davvero Stagione strepitosa Da parte di Andrea Gualdi La classe 97 Adesso Calcio d'angolo Palla tesa Respinta Poi la riprende Patelli Ma Guardalini Ha notato La posizione Di offside Di Patelli Direttore di gara Che però Non Segue le indicazioni Della propria assistente E assegna Semplicemente Messa laterale Per la Vertovese Fusar Patelli Provato ancora Il living Alto calcio d'angolo C'è Vamo Di Gualdi Grande protagonista Assente Dopo l'espulsione Con la Prada Lunghese Per doppia munizione Contro la Gavanese Rientrato A disposizione oggi Subito Rischierato Da primo minuto Da parte di Mister Giorgio Alberti Adesso Patelli dal corner Palla molto tesa Attenzione Del suo secondo palo Proprio per Gualdi La rimette due volte La fine La Rodense Seppur con qualche difficoltà Riesce a respingere Ma Vertovese Tamburezzante Adesso qui La recupera Le Grenzi Sventagliata Stavolta Un tocco impreciso Per l'ex Stato campista Del Breno Cresciuto Nel settore Giovanni Della Taranta Rimessa Adesso Per la Rodense 9.40 Sul cronometro Sempre 0-0 Bergamelli A fare da schermo Poi La recupera Castelnuovo Non riesce A farla passare Ancora Bergamelli Messedaglia E' uscita benissimo La Vertovese Paraterra Le Grenzi Bonetalli Fusar A metri di sfrutta Patelli Uno contro uno Attenzione Patelli Pennellata Dentro L'Ara Con Messedaglia Che va giù E si lamenta Direttore di gara Però Lo invita A rialzarsi Nulla di fatto Tutto regolare Secondo Il signore Ceresigni Di Lodi Che era Pochi passi D'azione Sicuramente Ha potuto valutare Molto meglio Di noi Che siamo Decisamente Più distanti Fusar Bassini Non colpisce bene Prova a tenere La Patelli Lo fa però Aiutandosi Con le mani E quindi L'abito Scena calcio Di punizione In favore Gli arancioneri Di casa Palla ancora profonda A cercare Beretta Poi arriva Però Legge bene Chiude Ancora Rodense Con Di Noto Che cerca Uno contro uno Raddoppiato Allora Schraica alle spalle Per Schala Salta Salta secco L'uomo Poi arriverà Doppio Efficace Da parte Luzzana Non la tiene Però Sortino Quindi Ancora Rodense Di Noto Stavolta Ha provato L'inserimento Colombo Bravo però Riva A leggere Le intenzioni Del numero 7 All'anticiparlo Adesso Poi di casa Vanno a spingere Con più continuità Castelnuovo Colombo Altro pallone Profondo Riva però Non sbaglia Abbiamo detto Coppia centrale Con l'esperienza Di Riva E Buone talli Cresciuto Come trazino sinistro Ma Molto affidabile Anche come centra Difessivo In questa Seconda parte Di stagione Con la Gavarnese Un solo errore Nel finale Da parte di Monetari Che ha procurato Il calcio di rigore Ma Complessivamente Quest'azione perfetta Dei due centrali Che hanno retto l'urto Contro uno dei migliori Attacchi Della promozione seriana Come quello appunto Della Gavarnese Con Tra gli altri Vicari Andreoni E Riva Adesso rimessa laterale Da destra Con le mani Borsani Fusara legge bene Poi però Patelli Non è perfetto Nell'aggancio Quindi la rimessa laterale Sarà ancora In favore Degli arancionieri Di casa Che adesso Stanno provando A guadagnare metri Ad alzare il baricentro Quanto vese Un po' più arrefrata In questa fase Dopo un inizio Più tambureggiante Palla che schizza Via veloce Su un terreno Chiaramente reso bagnato Dalla pioggia Caduta In precedenza Pioggia che per la vita Adesso si è Placata Legrenzi Filtrante Perfetto Da Patelli Attenzione Da Di Patelli Può essere devastante Saltasecco L'uomo Apertura splendida Per Shortino I due esterni Confezionano La ripartenza Poi Shortino Non trova la misura Nel suggerimento Ma Ancora una volta Determinanti Gli esterni Offensivi Della squadra Di Giorgio Alberti Sono ripartiti A gran velocità Con Patelli Che ha aperto In maniera splendida Per Shortino Non è riuscito Però stavolta A trovare l'assistenza Per M. Sedaglia Il numero 8 Ma ripetiamo Quando la Vertovese Può sviluppare gioco Negli spazi Da sempre Senza di poter rendersi Pericolosa Adesso qui Errore Clamoroso Da parte di Mantovani Che ha regalato Palla a M. Sedaglia Non è riuscito A tenerla Il bomber Ex Ponteranica E Verdello Arrivato A dicembre Autore di 4 gol Le prime 4 sfide Di ritorno Poi Un po' meno brillante Nella seconda parte Del gioco di ritorno Ma Qui Ha agganciato Il suggerimento Di Mantovani Però non è riuscito A tenerla Chiaro che Se fosse Riuscito nel suo intento Si avrebbe trovato A porta spalancata Seconda chance Importante Per la Vertovese Prima Un tiro da fuori Di Gualdi Con Mantovani Che era stato lì bravo A deviare Sopra la traversa E poi appunto Questa leggerezza Incredibile Del numero 1 Da Rodense Che ha consegnato Palla a M. Sedaglia Però non è riuscito A tenerla Il bomber Seriano Quindi Pericolo Scampato Per la Rodense SEMS che resta Intiolato Sullo 0-0 Adesso con le mani Borsani Castelnuovo Poi in qualche modo Riesce a liberare La squadra di casa Ma ha notato Un controllo Di mani Quindi calcio Di pulizzo Di pulizzo Di pulizzo Levertovese Legrenzi Patelli Scamone 2 Anche Legrenzi Trova titolare Con la Gavanese Prestazione di Grande qualità Da parte del Centrocampista Seriano Gualdi Messe 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 Adaglia Ha cercato Il leve Nello stretto Non gli è riuscito E quindi Può ripartire La Rodense Di noto Castelnuovo Palla che poi gira Sui piedi Di Oldani Una volta Giro palla efficace Da parte dei padroni di casa Che attaccano da destra Con questo suggerimento Che però Buone tagli Legrenzi Fusar Adesso Provava ad uscire La formazione di Giorgio Alberti Ma ancora Possesso palla Rodense Con alla fine La sfida Che termina In messa laterale In favore Della Vertovese 15.42 Sul cronometro Sempre 0-0 Ma Vertovese Che partita Con gran Determinazione Ha già creato Due palle-goldi Importanti Una appunto Con una botta Di Gualdi Da fuori E poi La seconda In realtà Regalata Dal portiere avversario Che ha sbagliato L'appoggio Ma Messiai Non è riuscito Ad agganciare Quindi Match Nonostante La Vertovese In spinta Aveva attenzione Patelli Suo destro Palla però Stavolta Allontana Dallo specchio Nonostante La Vertovese Spinga Abbia già creato Due chance Resta ancora Sullo 0-0 Odense Che pur Cercando Soprattutto Di contenere Sta reggendo L'urto Anche se Dobbiamo dire Non è quasi mai Arrivata Dalle parti Di Nodari Fin qui Spettatore In campo Della sfida Adesso Va a Beretta Non la tiene Però Alta rimessa Ancora In favore Dalla Vertovese Arriva C'è il pallone profondo Per Messe D'Aglia Impreciso però Quindi puoi partire Colombo Forse fallo su di lui Regola del vantaggio Caruso Di noto Occhio all'ala sinistra Pallamento Poi per Caruso Ma arriva La legge ancora bene Perfetto In questo avvio Il central difensivo Di Alberti Alberti è arrivato A quattro usate Dalla fine A sostituire Il dimissionario Foglio Chiaramente In carico Importantissimo Per lui Prima panchina Di una prima squadra Lui che allenava La Juniors Della Vertovese Si è rifatto Trovato in mano La formazione Seriana Con ambizioni Playoff Alberti Che I playoff Li ha centrati E poi Li ha anche vinti Quelli del suo girone Portando la squadra Appunto Alla sfida Andata di torno Del terzo turno Che profuma L'eccellenza Ricordiamo Se si accede Al quarto ed ultimo Le possibilità Poi di salire Sono elevatissime Anche perdendo la finale Quasi certamente Si viene riprescato In eccellenza Shortino Gualdi Attenzione Non è passato Però stavolta Il centrocampista Di Alberti Ha chiuso bene La Rodense Caruso Toccato Dalle Gretti Calcio di punizione In favore Dei Arancio Nero Di casa Acqua Che Si è placata Non proprio più Sul comunale Di Rò Terreno Ripetiamo Comunque Appesantito In maniera Evidente Della pioggia Caduta in precedenza La palla poi Spesso tende ad essere Rallentata Terreno Comunque Praticabile Adesso giro Palla Che non Passa Buone tagli Non rischia Guardano Dai Che per Non Correre Ulteriori pericoli Rinvia profondo Bergamelli L'ex Ponte Isola Rischia Di scivolare Ma alla fine Recupera ancora Il possesso Nodari Per Legrenzi La sua sponda Cercare di messa D'aglia La legge Però molto bene Oldani E quindi È ancora Lega Recupera Il possesso In mezzo a due Direttore di gara Indica la palla Era pochi passi Della l'azione Tutto regolare E quindi Può ripartire Il team Di casa Con Sala Terzino sinistro Va sopra Per Di noto Luzzana Però lo anticipa Pulito E poi Mette Palla sopra Alto duello Di noto Punta Luzzana Lo salta Si aiuta In maniera Fallosa Luzzana Quindi calcio Di punizione Che sarà In favore Dei padroni Di casa Ovvero Adesso A sfruttare Questa situazione Con Diversi uomini Che vanno a saltare Vertovese Che difende Compatta Su questo Calcio piazzato Sulla palla Castelnuovo Con il destro Il mancino Di Sala Sala Castelnuovo Scambiano i due Palla dentro Attenzione Di testa Baccia già La bandiera Alzata Della guardaline Che Aveva segnalato Immediatamente La posizione Di offside Da parte Della centrale Difensivo 84 Oldani Che era Salito A saltare E aveva anche Messo in rete Ma ripetiamo Non si può parlare Di gol Annullato Perché L'abito Aveva già fischiato Prima che il centrale Girasse di testa Nella porta Di Nodai Che adesso La torre in via Messe d'aglia Palla recuperata La Rodense Ma Shortino Lavora bene anche In fase di opposizione Chiaro che Il 4-3-3 Della Vertovese In fase offensiva In fase di non possesso Diventa un 4-5-1 Perché Patelli E Shortino Sugli esterni Sono bravissimi Ad abbassarsi Sulla linea Dei centrocampisti Andando appunto A formare Una linea 5 Lasciando il solo Messe d'aglia A fare da Riferimento offensivo Mentre adesso Sarà rimessa Laterale In favore Della formazione Seriana Con Fusabassini Che ha già recuperato Il pallone Palla sopra Imprecisa Però quindi Messe laterale Regalata Alla Rodense Vedete Che ripetiamo Fin qui Maggiornette La partita Ha anche costruito 2-3 chance Interessanti Due botte Da parte di Gualdi E Patelli Sulla prima Bravo il potere A rispindere La seconda invece Non alzato lo specchio E poi Un'altra chance Dove invece Mantovani Ha regalato Palla a Messe d'aglia Mentre qui Siamo dalla parte opposta Con la girata Di Di Noto Non colpisce Però bene Il numero 11 Ma prima risposta vera Del pallone di casa Al forcing Vertovese Alla rinvio lo dai Ma bisogna aspettare Perché Bomber Beretta Classe 81 È a terra Necessita Dell'intervento Dei sanitari Mentre Giorgio Alberti E' profitta Della pausa Per Andare a parlare Con Shortino Per andare Ulteriori indicazioni Alberti sicuramente Soddisfatto Della prova dei suoi Fin qui Ma Non lesina Comunque indicazioni Nella partita Che ripetiamo È di enorme importanza Perché consentirebbe Se ben disputata Di giocare Con un risultato favorevole Il mezzo di ritorno Alla Vertovese Mentre Resta ancora A terra Beretta Adesso si rialza Claudi Cante Vediamo se sarà in grado Di proseguire Il numero 9 Vediamo Beretta Classe 81 Caruso Classe 82 Due attaccanti Della Rodense Come già detto No Ben fatto in campionato Rodense Ben 60 volte In stagione regolare Rodense Che però Dietro Come già ricordato Concede Non invulnerabile Adesso Patelli Bergamelli Cerca l'apertura E la trova in maniera Splendida Shortino Luzzana Falla un po' difficile Arretrata La recupera Prova Bergamelli Arriva Altra sventagliata Messe d'aglia Attenzione Poi Guardi Qui rimontato Non è riuscito a controllare Il numero 6 Ha fatto buona guardia La retroguardia di casa Che poi Esce bene Negli spazi Con questa apertura Da parte di Iso Di noto Per Sala Con Riva Che però scala bene Anche un preziosismo Di tacco Di Riva Che sicuramente In condizioni Come già I con dato straordinario E che Si permette Anche queste Giocate D'alta scuola Proprio per Confermare Quanto detto Giocatore in fiducia In grandi condizioni Fisiche e morali Adesso Luzzana Palla sopra Per Messe d'aglia Con Il bomber Anticipato In calcio d'angolo Da parte di Oldani Quindi Connor In favore Dalla Vertovese Vertovese Che Nel suo complesso È in grande condizione Abbiamo già Ricordato Appunto I due turni Per senti Playoff Con il pareggio 0-0 Con la padronunghese Ottenuto Giocando L'ultima Zona In 10 uomini E poi La vittoria A Nembro Il sabato scorso Per due reti a uno Con il rigore Di Spampatti E il destro Letale Di Patelli Che ha già recuperato Il pallone Che adesso Andrà a battere Il corner 5 uomini Detto l'area Saltare Da Vertovese Tutta chiusa Rodense A difendere Rodense Che però Fa buona guardia Riesce a respingere Il pericolo Qui Patelli Non ha alzato La sfera E ha facilitato Certamente La fase difensiva Della Rodense Con una notizia Però Negativa Per Mister Crucitti Beretta Non ce la fa Obbligato Al primo cambio Esce il Puntero Esce il numero 9 Al suo posto Tocca a Mainardi Quindi al 26 38 Primo cambio Obbligato Per i palloni di casa Che perdono Il proprio riferimento Offensivo Costituito da Mainardi Adesso andremo a vedere Come si Ridisegnerà Il team di Casa Messelaglia Guardi In mezzo a due La gestisce bene E poi va anche In maniera precisa In profondità Per Messelaglia Il suo traversone Con Oldani Che mette in corner Vettorese Che sta provando Nuovamente A chiudere L'avversario Nella sua metà campo Sicuramente Presentazione Di grande personalità Ficui Da parte del team Direttore sportivo Bottolotti Del presidente Guerini Parte Patelli Palla molto tesa In conto Contrato La deviazione Da parte Del playmaker Bergamelli Che però Non è riuscito A dare Direzionalità Alla palla Sfera che è terminata Lontana Dalla porta difesa Da Mantovani Adesso Rodense Borsani Bonetani Chiude bene In Rimessa laterale Con Caruso Capocannoniere In campionato Della Rodense Che adesso è andato A fare Da riferimento Offensivo Dopo Il cambio Obbligato Dopo le frutture Di Beretta E Mainardi E di Noto Si muovono invece Alle sue spalle Una sorta di 4-2-3-1 Che vede davanti Alla difesa Scusate davanti Alla portiera Mantovani Difesa a 4 Con l'estra Borsani A sinistra Sala E Zanus E Oldani Centrali Poi Davanti alla difesa A fare da schermo Ci sono Castelnuovo E Iso Prima punto Del treidente Composto Dal 98 Mainardi Da Di Noto E da Colombo A sostegno Di Caruso Che si prima faceva La mezza Alle spalle Di Beretta Adesso fa invece La prima punta Sostenuto Dal Terzetto Prima Elencato Legrenzi Patelli Grande aggancio Bua bandiera Della guadaline Già alzata E partito In posizione Di offside Patelli Quindi calcio Di punizione In favore Le potele di casa Su una Trimuna Scoperta Con la pioggia Abbattente Inizio della gara Non c'era Molto pubblica Adesso invece Passato il Temporale La tribuna Si è riempita Davvero Un buon pubblico A vedere Quello che chiaramente È una sfida Importantissima Perché Può valere Una grossa fetta Di eccellenza Adesso Calcio di punizione Rodense Sul pallone Castelnuovo Classe 85 Per il centrocampista Di Crucitti Che adesso Apre In maniera Precisa Zanus Cercato subito Caruso Ma Ancora una volta Bandiera Guardalini alzata Molto attenti In questa fase Guardalini Hanno segnato Diversi offside 30 e 12 Sul cronometro Sempre 0 a 0 Tra Rodense E Vertovese Partita fin qui Interessante Non Ritmi elevatissimi Ma sicuramente Contenuti tecnici Importanti Con la Vertovese Che ha fatto Compiù con tutta la partita Ha costruito Anche un paio Di buone Opportunità Senza però Riuscire fin qui A Graffiare Rodense Invece agisce Soprattutto di rimessa Sto cercando Di contenere E di fatto Non si è quasi mai Affezzata Dalle porte Dalle parti Di Nodai Che fin qui Ha dovuto Compiere Soltanto Interventi Di routine Soltanto Ordinaria Amministrazione Adesso con le mani Luzzana Messe d'aria La protegge Poi però Ha raddoppiato La perde Quindi Luzzana Ha liberato Il più forte Possibile Centrando però Messe d'aria Che è chiaramente Colpito In pieno vento È rimasto a terra E quindi Adesso Rodense che attacca Con la Vertovese In infanta numerica Fusar però È bravissimo Nel leggere La situazione La trasformare L'azione La difensiva Inoffensiva Con Messe d'aria Che però Non è in grado Di partecipare Perché Ancora dolorante Prova di alzarsi Adesso il bomber Recupera la palla Sterzata Sterzata Legrenzi Fusa Vassini Tommassone Pennellato Con Messe d'aria Che ha cercato In Acrobazia Di colpire il pallone Messe d'aria Che però Sembra ancora Stordito dal colpo In precedenza Non ancora Al 100% Mette qui Patelli Ha cercato di inserirsi Alle spalle La retrograda Versaia Senza però Trovare il pallone Palla troppo profonda Anche per Un giocatore Della sua rapidità Patelli Ricordiamo Arrivato A dicembre Lui che ha iniziato la stagione Con il Casazza Lui che Negli ultimi anni Era brusaporto In eccellenza Patelli Impatto Stratosferico Sul pianeta Vertovese Tante prestazioni Importanti Fino appunto A quella Di settimana scorsa Nella secondo turno Playoff Determinante Nella vittoria Dei suoi Adesso Possesso palla Rodense Con il terreno Che si è Visibilmente Deteriorato Con il passare Dei minuti Ma che resta Comunque Praticabilissimo Con le mani Nodari Tene che i compagni Salgano Come di effettuare Il rinvio profondo A cercare Shortino Non la tiene Il numero 8 E quindi Riva di testa A spezzare Potenziale Di partenza Da Rodense Che adesso Beneficerà Di una rimessa laterale Dalla sinistra Sala Poi Colombo Subito dentro Qui Di Noto Cerca Di sfruttare La sua rapidità Ma arriva Non sbaglia Andando a chiudere Poi Ancora però La Rodense Con Di Noto Doppio dribbling Ha giocato Nel numero 7 Palla su secondo palo Attenzione Dentro l'area E poi Deviazione Determinante Da parte Pensiamo di Bonetaglio Ma ha visto Se Mischia Abbia deviato Bonetaglio Fusabassinit Certo Quella Era una posizione Davvero Pericolosissima Con Iconiso Che ha cercato La botta Secca Verso la porta Trovando appunto L'inversione Di un difensore Maiazzurra Che ha smettato la minaccia Ma adesso Prova ad insistere La Rodense E Nodari In uscita A pugni chiusi Respinge il pericolo Toccato anche duro Resta la terra Colpito anche Caruso In maniera significativa Resta la terra Di entrambi i giocatori Se il potere da Vertovese Che è l'attaccante Della Rodense Rodense Che però Negli ultimi minuti Sta provando ad alzare Il Bari c'è andato Dopo quando a Rispondere Alla Vertovese Chiaro che le due squadre Affrontano La sfida In maniera molto diversa Rispetto a come Hanno affrontato I due turni precedenti Che erano in gara secca Che emettevano Un verdetto definitivo Già al novantesimo Terzo turno In anata di turno Bisogna cercare Di distribuire Al meglio le forze Nell'arco dei 180 minuti La sfida Non terminerà Stasera Ci sarà il ritorno Mercoledì Alle 16 A Vertovese Chiaro che Bisogna Ragionare Nell'arco dei due partiti Mettemi La sfida Verrà Posticipata Di Un'ora e mezza Quindi si giocherà Alle 17.30 Non alle 16 Come da Calendaio Quello comunque poi Lo vedremo a Bocce ferme Dopo la partita Adesso Buone talli Con Messe D'Aglia Che la tiene Luzzana Shortino Buon giro palla Shortino Non riesce però A Servire Il compagno di squadra Oggi meno brillante Rispetto alla sfida Di sabato scorso Shortino Siamo solo al 35esimo Ancora Molto tempo Per incidere Nella sfida Qui Legrenzi Recupera un gran pallone Ancora Legre Resiste Regola del vantaggio Poi Legre Cerca addirittura Il destro Palla però Troppo debole Era la distanza siderale Blocca facilmente Mantovani Sala Per Caruso Il numero 10 Che è anche il capitano Si è ripreso Dopo la botta precedente Rimediata Nello scontro fortuito Con Nodari Si è ripreso Anche il porterone Della Vertovese Nessuna conseguenza Per i due Perfettamente In grado Di proseguire La sfida Ancora Di noto Raddoppiato Da Luzzana Bravo A mettere il corpo Dall'versario Il pallone A bagnare Calcio Di punizione 36 e 50 Sul cronometro Sempre 0 a 0 Ma se ne apre mezz'ora Il possesso Ha stato quasi Sicuramente Vertovese 1-2-3 Buone chance Create Dalla formazione Seriana E la Rodense E la Rodense è preoccupata Soprattutto di contenere Quasi mai Insidiosa Dalle parti Di Nodai Adesso I padri di casa Stanno provando a rispondere Hanno creato Anche una buona chance Calcio di punizione In favore Di azzurri Di verzo Asciutto la palla Legrenzi Mentre il direttore di gara Va Il numero 4 Invitandolo A mantenere la calma Legre Luzzana C'è che attraversone Però Contra stato In maniera Efficace Da parte di Colombo Il classe 98 Insieme a Borsani Classe 97 E Zanus Classe 2000 Sono i tre giocatori Che fanno La regola dei giovani Per la Rodense Ricordiamo che L'anno prossimo Saranno 4 giovani Obbligatori In campo Nel calcio di ottantistico Uno è Una promozione In eccellenza Mette Qui Il suggerimento Di Gualdi Troppo profondo 4 appunto giovani In eccellenza Un 97 Un 98 Un 99 E un 2000 Obbligatori Mentre quest'anno Sono soltanto 3 Un 97 Un 98 E un 99 Adesso Legrenzi Guardi Fusare C'è ancora bene La Vertovese Con Fusare Vassini Che sfrutta La propria facilità Di corsa E mette dentro Messe l'aglia Va giù Tutto regolare Però Stavolta ha contato Dobbiamo dire Anche a nostro avviso Veniale E Rodenski Però non riesce A ripartire 39 20 Sempre 0 A 0 Però in caso Che la può Un par di minuti In forcing Adesso sono tornati Vada passare Il Baricentro Vertovese Che sta provando A riprendere In mano Le redini Del gioco Fusare Vassini Buone tagli Nodari Come nelle sfide Delle coppie europee Andate a ritorno Il gol È in trasferta Può valere molto Perché in caso Di parità La somma di gol A chi nasce anche di più In trasferta Passa il turno Attenzione Patelli Dentro Con Oldani Che ha chiuso bene Ha sparato in Il calcio d'agolo Oldani che Chiaramente È il giocatore D'esperienza Affiancato da Zanus La classe 2000 E lui a guidare La rettoguardia Della Rodense Adesso Fusare Vassini Palla dentro Era forte e tesa Non è passata però Buona guardia Per la squadra Arancio-nero Devo dire Si sospettava Un attacco esplosivo Fin qui Non si è ancora visto Da parte della Rodense Andiamo anche a dire Che la rettoguardia Che si pronunciava Non imperforabile Fin qui Ha Sicuramente Dispudato un'ottima sfida Sta sbagliando pochissimo Sta concedendo Pochissimo Al possesso Palla della Vertovese Shortino Luzzana Scambio Che Bergamelli Porta a destra Shortino Ancora Capitana Luzzana Profondo Per Messedaglia Seziona Guardi La recupera bene Guardi Poi Cerca lo scambio Con Messedaglia Però bravo Stavolta Mantovani Ad uscire In presa bassa Luzzana Arrivato Due Stagioni fa Nessone Invernale Del mercato Insieme al Direttore generale Stacchetti Insieme A mister Astolfi Alla Vertovese Settazione complicata Vertovese Che In quel momento Era ultima in classifica E poi la pulare in corsa Staudinaria Ha ottenuto La salvezza Senza nemmeno Fare i play out Salvezza dirette Poi Vertovese Che da lì Ha spiccato il volo Nello scorso Come già ricordato Finale O meglio Terzo turno Play off Con la bassa Bresciana Quindi Ha un passo Dall'eccellenza Quest'anno Ancora una volta Grande Grande Percorso nel play off E oggi Nuovamente Alla terza Eliminatoria Contro la Rodense Che adesso Deci se palla con Caruso In mezzo a due Va giù Tutto regolare Anzi no Direttore legale Dopo un attimo di riflessione Assigna calcio Di punizione E padrone di casa Sala Rientra Con il suo piede preferito Il Manzino Poi prova lo scambio Non arriva Mainardi Non è riuscito A servire il compagno E quindi Recupero palla Con Fusar Bassini Contrastato da due giocatori Fusar Qui riesce ad uscire Gran giocata Con un po' di fortuna Legrenzi Guardi All'esta per Shortino Attenzione Alla capitale numero 8 Uno contro uno Shortino Palla dentro Troppo però Non può arrivare Nessun compagno di squadra Con Messe d'aglia Si è lamentato E' voluto il pallone Più rettato Per poter Colpire Verso La porta a Versaia Meno di due minuti Più recupero Alla fine Dei primi 45 Di una sfida Sicuramente fin qui Equilibrata Sanz Clamorose da gol Non ce ne sono state Anche se Come già detto L'Averturese ha creato Qualcosina di più Restendo maggiormente Pro stesso palla Mentre La Rodense Ha cercato soprattutto Di Contenere E poi Di ripartire Adesso rimessa La sinistra Che sarà ancora In favore Degli azzurri La Varseriana Con Fusabassini Già ricordato più volte Fratello di Andrea Fusabassini Che ha vinto I playoff Di eccellenza Con il Villa del Mec Che domani Con il Saint Pauls Giocherà il primo turno Delle emilatorie nazionali Attenzione però Patelli Patelli Dentro l'area Patelli Su sinistro Mantovani Spinge Legretti Fuori Incredibile Palla gol Costruita Dalla Vertovese Avremmo appunto detto Match Che non aveva ancora visto Palle gol Clamorose La palla gol Clamorose È arrivata Patelli Da sinistra Dentro l'area Ha calciato Troppo Le volmette Mantovani Ha respinto Ma soprattutto Legrenzi Arrivando in corsa Alle spalle Ha trovato Palla su suo piede Ma non è riuscito A inquadrare Allo specchio Sicuramente Insolito Per un giocatore Della sua Tecnica Tanto è che Qui la Vertovese Ha avuto una chance Pazzesca Per sbloccare La partita Arriva In maniera fallosa Quindi calcio di punizione In favore Del Rodense Le partite di casa Chiaro che Legrenzi Sta ripensando Alla chance Costruita In Precedenza Con il suo Destro largo Davvero Da posizione Invitante La panchina Da Rodense Ha esposto Il recupero Saranno ancora Due minuti Da giocare Per questo primo tempo Con la Vertovese Che chiaramente Dopo l'ultima chance Avrebbe a questo punto Meritato anche Il vantaggio Adesso Caruso Ha cercato La gran giocata Ma Non ha trovato Poi lo spazio Per sfogare La sua azione Davvero Caruso Capocanoniera In campionato La formazione di casa Giocatore Di grande qualità E di grande esperienza D'avete già detto Classe 82 Ma Ancora brillanti Anche dal punto di vista Fisico Il primo minuto Di recupero Se n'è andato E Nodai va a rinvio Guardi Messeraglia La prende lui Shortino Buon aggancio Ruzzana Messeraglia Uscita ancora bene La Vertovese Attenzione Guardi Al limite Guardi Messeraglia Attenzione Messeraglia Suo destro Contrastato All'ultimo Da Oldani Qui Gran intervento Dello centrale difensivo Della Rodense Che ha chiuso Messeraglia Non ha stato Possibilità Di trovare Lo specchio Certo che La Vertovese Sresa Ancora una volta Pericolosa Dentro l'area Gran filtrante Di guardi Per Messeraglia E conclusione Murata Nel numero 11 Connor Probabilmente L'ultima possibilità Di questo primo tempo Patelli Sul pallone Palla molto tesa Messeraglia La devia E poi Mantovani Ma in presa alta Su questa palla Il direttore di gara Con Estraia puntualità Fischia Alla fine del primo tempo Vediamo che si chiude Sulla 0-0 A Vertovese Che ha gestito Sempre il pallone E ha avuto Diverse buone possibilità Tra cui Una clamorosa Per sbloccare La sfida Ha mancato solo il gol Alla formazione Sayana Valense Che ha agito Di rimessa Senza Quasi mai Farsi vedere Dalle parti Di Nodari Quindi per I primi 45 Dallo stadio comunale Di Rò È tutto Vediamo appuntamento Alla ripresa Cari telespettatori Bene Tornati In collegamento Con lo stadio Comunale Di Rò Dove Si sta disputando Il terzo turno Dai playoff Di promozione Che vede Opposte Rodense E Vertovese Il primo tempo Che si è concluso Sul punteggio Di 0 a 0 Vertovese Che però Ha spinto Con più continuità Gestendo maggiormente Il pallone Anche costruito Diverse buone chance Tra cui Una clamorosa Con le grenzi Che ha calciato largo Da ottima posizione Vertovese Che invece ha cercato Soprattutto di contenere E raramente Si è affacciata Dalle parti Di Nodari Che ha dovuto Comperi Soltanto Interventi Di routine Chiaro che In questa ripresa La Vertovese Se è possibile Di aumentare Ulteriormente Il livello Del proprio Forcing E Rodense Che Ci aspettiamo Faccia qualcosa In più Giocando La sfida In casa Ricordiamo ancora Sfida che sarà Sul 180 minuti Andata di torno Il ritorno Sarà Mercoledì A Vertova Probabilmente Alle 5 e mezza E lì appunto Si deciderà Chi tra le due Salirà Al quarto turno E di fatto Arriverà Un passo Dell'eccellenza Ricordiamo ancora Chi arriva Al quarto turno Poi dei playoff 99 sul 100 Viene ripescato Nella categoria Superiore Adesso Rodense Che con Tenuta Arancio Nera Attaccherà Dalla sinistra Dalla destra Le vostre schemi Mentre la Vertovese In tenuta azzura Risponderà Chiaramente Dalla parte opposta Avete visto Che è cambiata Anche La condizione Climatica Sullo Stadio Comunale Di Rò È uscito il sole Non proprio più Chiaramente Condizioni migliori Rispetto a quelle Precedenti Per disputare La partita Anche se dobbiamo dire Lo scorso più forte È avvenuto Puglian inizio del match E i giocatori Hanno sempre potuto Giocare in Condizioni accettabili E anche il terreno Tutto sommato Seppur non In condizioni perfette Ha retto l'urto Con La pioggia E con gli scarpini Dei giocatori Adesso A sinistra Prova a spingere Sala Palla sopra Fuori misura La recupera Facilmente Luzzana Che poi sbaglia In rinvio Ancora Rodense Palleggio Legrenzi Legge bene Ancora però Padone di casa Che provano a Spingere in Questo avvio di ripresa Colombo Il destro Da lontano Da parte di Mainardi È entrato Nel corso A primo tempo Per l'infortunio A Bomber Per la Beretta Unico cambio Eseguito Della sfida Dalla Rodense Per L'infortunio Della sua Centravanti Vertovese Che invece In campo Ancora con Gli stessi Unici Che hanno Iniziato La partita Nodai A rinvio Quello aereo Poi Poi Se Se Legrenzi La prende Però Molto bene Castelnuovo Quindi Bergamelli Di prima Attenzione Per Patelli Palla Che però Rimbalza Diventa Incontrollabile Per il Numero 9 Un'occasione clamorosa È nata ancora Adesso ai piedi Una gran discesa Anche se poi Non ha calzato al meglio Ha dato poca forza Alla palla Consentendo la risposta A Mantovani Sul tapì Nelle grenzi Non ha accettato Allo specchio Sprecando di fatto Quella che era La chance Più unitile Della sfida Che avrebbe consentito Di andare all'intervallo In vantaggio Alla vertovese Adesso Iso Castelnuovo Giro palla Che adesso passa Tra i piedi di Colombo Borsani Fusara Legge bene Anticipa pulito Il proprio Versaio Ma guadagna anche La rimessa Fusara Bassini Anche oggi Posizione importante Vertovese Che sicuramente Nel complesso Arrivata in ottime Condizioni A questi playoff E Lo sta confermando Anche oggi Adesso Mantovani Non rischia Spara lontano Luzzana Per Patelli Altro imbazzo Però Incontrollabile Per il numero 9 Quindi Quando il cronato Si è 3.37 Della ripresa Il punteggio Sempre Sullo 0-0 E Bonetali Che qui va a recuperare La rimessa Anzi no Secondo il direttore di gara L'ultimo topo E proprio del numero 4 Quindi Out Che stavolta Sarà in favore E poi Con le mani Borsani La classe 97 Poi Fusara Rimbalzo E poi Tutto regolare Anzi no Il direttore di gara Ha pensato un attimo Ha fatto Proseguire l'azione Poi ha fischiato Ha notato un fallo Da parte di Gualdi Ai danni di Castelnuovo E quindi Calcio di punizione In favore Della Rodense Sala Di noto Poi Non è riuscito Il tunnel Caruso Ha chiuso bene La linea difensiva Della Vertovese Ma ha possesso Il resto Per i padoni di casa Grafusa Bassini Ancora pulito Poi Gualdi Non Riesce a mantenere L'equilibrio In media però Luzzana Bergamelli Filtrante Dezzone Shortino Messe d'aglia Stavolta ripartita bene Palla a terra La formazione seriana Luzzana Toccato duro Va giù Calcio di punizione In favore Degli azzurri di Vertovic Che hanno chiaramente Buone Soluzioni Anche sulle palle alte Oltre al centroavanti Messe d'aglia Possono salire Riva A buoni tagli A saltare A dare ulteriore peso Oltre a fusare Bassini Adesso sul pallone Si porta Michele Renzi Il centrocampista Che dopo Si è accresciuto Stato giovedì da Tarantà Ha girato in diverse squadre Sempre in Ruoli Da protagonista Nel calcio Tantistico Bergamasco e Bresciano Parte Legrenzi Palla dentro Se arriva Stava già Prestando a colpire Però ha chiuso bene Ha stato molto bravo A scalare Anche in fase difensiva Caruso E Rodens Che però Non riesce a ripartire Perché è dall'altra parte Opposta Manuel Di Noto Il classe 95 Non riesce ad agganciare Il pallone Sei esatti Con le mani Luzzana Scambio con Guardi Palla sopra Boldani Che sicuramente Ha disputato Un'ottima partita Fin qui Il centale difensivo Della Rodense Non ha sbagliato Nemmeno stavolta Facendo ripartire I suoi Caruso Apertura però Imprecisa Finisce per Servire Patelli Attenzione a Patelli Alla sua rapidità Sfida l'avversario Poi però Può aver saltato Zanus Arriva il raddoppio Stavolta efficace Da parte di Borsani Può ripartire La Rodense Chiaro che I giocatori milanesi Sanno perfettamente Della pericolosità Di Patelli Quando prende Velocità Sulla corsia Laterale E quindi vanno Spesso e volentieri A raddoppiarlo Cercando di non Farlo partire Il salario va giù Tutto regolare però Poi palla Che qui Viene rallentata Avete visto Dal terreno bagnato E l'Egrezza Può recuperarla Corallegre Palla un po' Pigra E quindi può ripartire La formazione di casa Con Mainardi Contra In maniera efficace Da Fusabassini Non riesce a tenerla Il è numero 5 Ma ha comunque Spezzato La potenziale Ripartenza De Palli di casa Vuol dire Secondo tempo Che è iniziato In maniera diversa Rispetto a quanto visto Nel primo Dove Ripetiamo La Vertovese Aveva tenuto Con continuità Il processo Palla Resettando anche Una Supernazia territoriale A volte A tratti evidenti Vertovese Che aveva Costruito poi Diverse buone soluzioni Anche La palla Clamorosa Qua è il vantaggio Queste riprese Invece Sei anni più bassi Stanno cercando Soprattutto di Contenere Non stanno Quasi mai Ripartendo Il rodense Che sia nella Prima partita Nella prima parte Di partita Nel primo tempo Aveva fatto Soprattutto Partita di Contenimento Questa Bioda ripresa È rientrata La squadra Di Crucitti Con più Determinazione Anche Siamo dire Chance Importanti Dentro l'area Non ne ha create L'unico Unico Brevido Lungo la serie Di tifosi Ospiti È arrivato Nel primo tempo Con la cruce Di iso Contrastato all'ultimo A pochi metri Da Nodari E fin qui Non ha dovuto Comprere Interventi Determinanti A differenza Di quanto Visto In una sfida Di lunedì Soprattutto di Sabato scorso Con la Gavarnese In cui È stato Più volte Determinante Per Sventare Le minacce Portate Dalla Gavarnese Di Foresti Adesso Rimessa laterale Con le mani Borsani 9 esatti Su con la volta Di presa Sempre 0-0 Vediamo se Opterà Per la Soluzione Profonda Così è Monetali Però la legge Bene E poi Bergamelli Perfezione Desimpegno Ancora però Rodense Palla sopra Però A cercare Il Traversone Non arriva Perché la palla È imprendibile Per il numero Due Che adesso Va anche a Giustificarsi Con il Proprio Mister Mentre Mentre Nodari Si appesta Aller Invio Sole Che adesso Splende Sul Stato Comunale Di Iro Le nuvole Sono dissipate Anche la temperatura È salita Notevolmente Messe D'aglia Gran controllo Poi Igualdi Non riesce Però Nella palla Di ritorno Ha lavorato bene Castelnuovo In fase Di opposizione Vediamo Sotto di noi Anche I giocatori Della Vertovese Che Vanno a Scaldarsi A parte Il Secondo Potere Feltri Tutti e sei Due elementi A disposizione Di Giorgio Alberti Si stanno scaldando Ricordiamo che La Vertovese In panchina Oltre a Spampatti Come già detto Inizialmente Escluso Dall'11 Titolare Ci sono E il vice Potere Feltri Ci sono anche Davide Marchesi Cattale difensivo Mirko Perrucchini Galli Tagliaferri E Brambilla Quindi soluzioni Diverse Per cambiare Il volto Della squadra Anche a partita in corso Per Mister Alberti Legrenzi Buone tagli Battelli Aggredito Riesce comunque A servire Legrenzi Poi Però la Rodenzi Fa buon filtro Con Fusabassini Che porta Alto il livello Del pressing E Mantovani Che sbaglia Ancora in rinvio Stavolta però In maniera Meno velenosa Della precedente Guardiamo Nel primo tempo Mantovani Che aveva servito Di fatto Messelaglia A pochi metri Dalla porta Messelaglia Che non è riuscito A mantenere Il pallone tra i piedi Se fosse riuscito Avrebbe potuto calciare A porta sguaranita Perché stavolta Il rinvio di Mantovani Non è stato perfetto Ma quantomeno Ha spedito il pallone Lateralmente Presso Legrenzi In ritardo Ai danni di Borsani Richiamato Direttore di gara Solo Ammunizione verbale Per lui Niente cartellino Guardiamo L'abito del Merzi Signore Ceresini Lodi Non ha fin qui Estrato Nessun cartellino Partita Fino a questo momento Correttissima Nonostante La posta in paglia Elevata Non si gioca Solo il quarto turno Playoff Soprattutto La possibilità Di salire In eccellenza Perché ricordiamo Ancora una volta Che Riva al quarto turno Ha enormi Possibilità Di essere ripescato Nella categoria Superiore Adesso Rodense Sala Chiuso da due giocatori Prova a scavalcare Per Caruso Ma Riva Non lo sbaglia E tiene anche il pallone in campo Grande intervento Ancora di Riva Che anche oggi Come nella Nelle ultime sfide Non ha sbagliato nulla Fusa Bassini Nodari Il mio profondo Cercare Messe d'aglia La tocca Patelli Contrastato In maniera Efficace Da Borsani Che poi Salta secco Patelli Gran giocata Di Borsani Con Bergameli Che per evitare La ripartenza Versailles Va ad anticipare Di notte Va a spedire Il pallone Messa laterale Con le mani Il tirzino destro Della Rodense Fusa Bassini Fusa Bassini Poi buone talli Sedi Batti Ribatti Bergamelli Che Spaglia l'appoggio Borsani Lezione a Colombo Spaglia però E quindi può ripartire La Vertovese Legrenzi Patelli Uno contro uno Addoppiato Non riesce a partire Allora Si apposa Su Fusa Bassini Buone talli Spaglia il servizio Però è Qui però Può ne rimedio Lo stesso Buone talli Che recupera il pallone E anche il fall Buone talli Anche oggi Molto positivo Abbiamo già citato Riva Dobbiamo dire Che è la tenuta difensiva Della Vertovese Contro un attacco Quotatissimo Alla Vesiglia Sta Fin qui Rivelando perfetta Non ha di fatto mai Concesso La possibilità di calciare Verso la porta di Nodari La formazione seriana Mentre dall'altro Dall'altro canto Si è resa Più volte Pericolosa Adesso qui Calcio di punizione In mezzo al campo Con i tifosi di casa E Avrebbero voluto Il cartellino Che non è Fin qui estratti Proseguito su questa linea Mentre qui Sbaglia Un controllo Apparentemente facile Iso E quindi di fatto Regala In mezzo laterale Alla Vertovese Legrenzi Poi Messelaglia Buon controllo Attenzione Messelaglia C'è Patelli libero Messelaglia Lo cerca Lo trova Patelli Fusa Bassini Scala bene La Rodense Patelli Addirittura però Triplicato da Mainardi Non riesce comunque All'uscire La squadra di casa Fusa Bassini Bergamelli Con una buona età Che cerca il servizio profondo Per Patelli Vediamo se stanzierà La bandierina Si Quindi fuori gioco E punizione In favore Dei padroni di casa 15.36 In questa ripresa Sempre 0-0 Mentre Si atterra Il terzino destro Della Rodense Borsani Secondo tempo Molto equilibrato Con i padroni di casa Che rispetto ai più di 45 Hanno alzato Maggiormente Il Bari 100 Una sfida Che si sta sviluppando Soprattutto in mezzo al campo Portieri Questa ripresa Mai impegnati Chiaro che Le due squadre Sono molto attenti A non commettere eroi Sanno perfettamente Che ci sarà Il match di ritorno Tra 4 giorni Che di fatto La qualificazione Verrà decisa lì Fino a questo momento Soprattutto di non Commettere eroi Ripetiamo Rodense Che ci aspettavamo Esplosiva in attacco E Più in difficoltà In fase difensiva Fino qui in realtà Non ha mai spaventato La linea difensiva Della Vertovese Mettatore messo d'aglia Partito in Posizione di fuori gioco Non ha Non ha mai spaventato La linea difensiva Della Vertovese Ma dall'altro lato Ha mostrato Un'ottima tenuta Nella retroguardia Nonostante Subito a lungo Possessi Palla avversario Adesso Calcio di punizione In favore Proprio del pallone di casa Sul pallone Castelnuovo Lascia dal portiere Mantovani Zanus Casse 2000 Begamelli Scala bene Non colpisce però Altrettanto In maniera efficace E quindi Rimessa laterale Rodense Borsani Profondo Riva Non sbaglia Rivio Sbaglia però L'appoggio Guardi Quindi ancora Legrenzi Bravo Qui a recuperare Il pallone Patelli Attenzione Addirittura triplicato Lo trova bene Sopra però Stavolta Per Messedaglia Contro il Dani Lo salta Messedaglia Dentro l'area Messedaglia Il destro E c'è il vantaggio Nella Vertovese Messedaglia Ritrova il gol Nella partita Più importante Nivel Bomber Action Verdello Gran dribbling Assaltare Oldani Ficui Perfetto Il numero 6 Della Rodense Non è riuscito A contenere Messedaglia Gran sterzata E poi davanti Amantovani L'ha freddato Con una botta secca Di collo Esultanza Non solo Della panchina Che va In campo Ad abbracciare Messedaglia Ma anche Della tribuna Sostenitori Ospiti Che sono esplosi Abbiamo visto anche Il papà Di Messedaglia Qui vicinissimo Alla nostra postazione Esultae Questo è un gol Pesantissimo Perché Al 18.35 La Vertovese È in vantaggio E adesso Chiaramente L'inerza Del match Cambierà Trovato il vantaggio La Vertovese Potrà Agire Di rimessa Potrà Sfruttare Spazi Ancora Maggiori Per andare A far male All'avversario E chiaramente Rodense Dovrà Necessariamente Riscare Qualcosa In più Per tentare Di riequilibrare La contesa Mentre Qui L'ultimo tocco Proprio dei padoni di casa Quindi Il rinvio Dal fondo Sarà per la Vertovese Siamo appunto Rodense Che dovrà Necessariamente Di sarà qualcosa in più Per cercare Di rimettere In equilibrio La contesa Chiaro Anche in ottica Del match Di Ritorno Detovese Che in questa Ripresa Sembra Meno incisiva Rispetto a Quanto Mostrato Al primo tempo In realtà Alla prima palla Ha colpito Mentre arriva Il secondo cambio Della sfida Sempre Nelle file La rodense Stavolta Ad uscire Borsani Terzino destro Non al meglio Negli ultimi minuti Al suo posto Entra Nosotti Quindi fuori Un 97 Dentro Un 99 Chiaramente Per rispettare La regola Che Vuole Tre giovani In campo Adesso Messa d'aglia L'autore del vantaggio Guardi Attenzione a Patelli Attenzione Perché adesso Un momento Chiave Della partita Patelli dentro E poi Qui Ha sbagliato Ha cercato il controllo Patelli Di fatto Sbagliandolo E regalando Rimessa Tra la rodense Un momento Ripetiamo Chiave della partita Perché adesso La vertovese Con il vantaggio Di un gol In ripartenza Davvero L'occasione Per Mettere Ancora Più in discesa La sfida E rodense Che cerca Necessariamente Di rispondere Di non abbassare La testa Qui arriva Non colpisce bene E buona L'apertura Invece Da parte Di Iso Tra persone dentro Buone talli Invece Non sbaglia Piattone Di controbalzo E palla Rispedita Al mittente Sala Sala Cerca E trova Mainardi Poi Sventagliata Con Luzzana Che prova A reggere L'urto E riesce In maniera Efficace A farlo Recuperando Anche il pallone E Respirando Il pericolo Ancora però Possesso Rodense Prova a rispondere Subito La formazione Di casa E non è entrato Nosotti Poi Di noto Altra palla Dentro Riva Però è bravo Ancora una volta Leggere il Traversone E respingere il Pericolo Di noto Filtrante Cercare il Taglio Da parte Di Iso Ancora una volta Daniel Riva Davvero Sugli scudi Nelle ultime sfide Mi ha detto Tantissime volte Lo ripetiamo Ancora una volta Finale Stagione In crescendo Per lui Giocatore Di grande Esperienza Abituato Anche a Giocare in categorie Superiore Grande Forza fisica Nel senso Dell'anticipo Caratteristiche Che Mostra In maniera Nella Nella loro Versione Migliore In queste ultime Partite Adesso Palla oltre La linea di fondo Andrà Le rinviano Dari 22 40 Ripresa 1 a 0 Vertovese La sbloccata Messe D'Aglia Qualche minuto fa Messe D'Aglia Ricordiamo Non brillantissimo Nelle ultime sfide Alcune volte Anche escluso Da mister Alberti Aveva giocato Titolare Nel Derby Nel primo turno Contesa Contesa Adesso Adesso Con le mani Fusabassini Batelli Ha cercato Il velo Comunque La rimessa laterale Chiaro Vedremo Se Alberti Attengerà Anche dalla panchina Per dare forze fresche Alla sua squadra Fino ad adesso Non ha eseguito Nessun cambio Il mister Della Vertovese Ampiamente soddisfatto Del rendimento Offerto Fin qui Dai suoi Ed ecco Quasi annunciato Il primo cambio Della formazione Seriana Fuori Gualdi Dentro Tagliaferri Giocatori Con caratteristiche Identiche Giocatori di quantità E qualità Capace di Lavorare molto In fase di posizione Ma anche di inserire Dentro la Gualdi Quest'azione importante Lui che rientrava Dalla squalifica Che l'avrà tenuto fuori Nel derbissimo Con la Gavarnese E adesso Lascia spazio Da Tagliaferri Forze fresche Non cambierà Chiaramente nulla Dal punto di vista tattico Patelli Addirittura Ha triplicato Patelli Esce ancora Andando via Debordante Poi però Non trova il passaggio Anche perché la palla Aveva già Oltrapassato La linea di fondo Palla a sinistra Per Sala Con Shortino Che però Lavora bene Non si è visto molto In fase offensiva Oggi Shortino Ma Ha lavorato tantissimo In fase di opposizione Abbassandosi Sulla linea Stato campista Recuperando diversi palloni Come appunto Quest'ultimo Molto più Servito Patelli Dalla parte opposta Che se fin qui Non è riuscito Ad incidere Come di consueto Il numero 9 Prestazione comunque Nel complesso Positiva per lui Adesso Oldani Sala Giro palla Della Rodense Che però Non riesce mai A trovare linee di passaggio Facili Per sviluppare La propria manovra La virtuose Fa sempre densità Occupa Bene gli spazi E fin qui Sta davvero Anestitizzando Al 100% L'enorme potenziale Offensivo Dei padroni di casa Che davvero Fino a questo momento Non hanno mai creato Pericoli Verso la porta Di Inodari Quindi Messiaia Non può tenerla Allora Rodense Con Fusac Che però Va in altissimo pulito Spezzandolo di partenza Le ponte di casa Adesso Mainardi Cerca nel breve Nello spazio stretto Lo fa bene Quindi l'apertura Dalla parte opposta Per il tentativo Di inserimento Da parte di Di Noto Chiuso però bene La riva Boldani Adesso Rodense Che sta spingendo A pieno organico Il virtuose Che è tutta chiusa A contenere Il vantaggio A difendere Un 1-0 Fin qui Pesantissimo Filtrante Ancora per Di Noto Arriva Bonetaglia A scalare In vantaggio Il numero 4 Non si fa sorprendere Mette il corpo Traversario il pallone Bonetaglia Il rinvio Dal fondo Ed eccolo Il secondo cambio Tra le file Dalla Vertovese Esce Il playmaker Bergamelli Forse anche colpito duro Non al meglio Ma al suo posto Entra Davide Marchesi Bergamelli Playmaker Basta di far raziare la squadra Marchesi Veste giocatore più difensivo Vediamo come si Risistemerà Il Team di Zoso Alberti Benza visto Che non cambia nulla Marchesi va Pursi davanti a difesa Affiancato da Tagliaferri Legrenzi Marchesi Giocatore come già letto Più di opposizione Bergamelli invece Giocatore più di costruzione Nodai Profondo Messe d'aglia Galvanizzato Dal gol Ultimi due LR Li ha vinti praticamente tutti Adesso Rodense però Caruso Prova a sfondare a sinistra Formazione di Crucitti Crucitti Non riesce però Perché fa buona guardia La Vertovese Che va qui A guadagnare Il rinvio dal fondo 28 e 11 Sul cronometro Sempre 1 a 0 Vertovese Continua a decidere Il gol Realizzato al 17esimo Da parte di Messe d'aglia Mentre sta per arrivare Anche il terzo cambio Tra le file Della Rodense Stavolta ad uscire Colombo Al suo posto Tiriolo Anche qui Fuori un 98 Dentro 1 a 98 Proprio per rispettare La regola dei giovani Vedremo Come si Ridisporranno In campo I giocatori Di Mister Crucitti Rinvio di Nodaria Messe d'aglia Altro duello Era vinto Poi però Fusabassini A mettere il piattone Profondo Sedi Batti e ribatti Con Caruso Anticipato La buona Tali Poi però Possesso palla Ben gestito Della Rodense Non passa Comunque Il filtrante Vuol dire che Forza di casa Dopo Avere gestito il pallone Una po' a metà campo C'era quasi sempre Il lancio profondo Perché non trova Mai sbocchi Palla a terra E queste palle profonde Vengono quasi sempre Lette In maniera perfetta Dalla retroguale Alla vertovese Che adesso riparte Con Luzzana A sinistra Patelli Attenzione alla sua abilità E attenzione Alla sua proposizione Di Fusabassini Patelli Eccolo Fusar Cavalcata straordinario 80 metri di Fusar E poi Traversone Arretrato Non però All'altezza Della sua corsa E quindi La Rodense Può ripartire Tutto regolare Luzzana Qui Caruso è dato giù Dopo il duello Con Riva Aveva voluto Il calcio di punizione Direttore di gara però Pochi passi L'azione ha fatto giocare Buone talli Fusabassini E poi palla Tra le mani Di Mantovani Qui Patelli Si era abbassato Per coprire Le spalle A Fusabassini Buone talli però Non si è fidato Ad aprire Palla a terra Perché era Pressato Ha cercato subito Il servizio profondo Con la sponda Di Fusar Che è finita Tra le braccia Di Mantovani 33-38 Nella ripresa Qui allo stadio Comunale di Rò Dove la sfida Vai per il terzo turno Playoff Tra Rodense E Vertovese Vedete la squadra seriana In vantaggio Per una rete a zero Grazie alla stoccata Di Messe D'Aglia Vertovese Molto positiva Nel primo tempo Gestendo quasi sempre Il pallone E creando Tante chance Nella ripresa Ha spinto meno Ha giocato più bassa La squadra Di Giorgio Alberti Ma Di fatto All'unica palla Gol Costruita Ha colpito Vertovese Che dietro Non ha praticamente Mai rischiato Né prima Né dopo il gol Sta reagendo Fin qui Benissimo Contro Una Rodense Che Nel stazione regolare È andata A segno Per bene 60 volte Con un attacco Esplosivo Che Andiamo a dire Fin qui oggi Non ha mai Spaventato Nodari Primi 75 minuti Di partita Senza tiri In porta Per i padroni di casa Che hanno cercato Soprattutto di contenere Fino al gol Di Messedaglia Poi adesso Dopo aver subito Il destro Di Messedaglia Sto provando a rispondere Ma senza creare Pericoli Attenzione però Messedaglia Dentro l'area Attenzione Messedaglia Il suo destro E palla fuori Di pochissimo Vertovese Che oltre a reggere l'ulto Spaventa Gli avversari In Contropiede E qui È andata Un passo Addirittura Dalla raddoppio La squadra di Giorgio Alberti Il destro Di Messedaglia Fuori di pochissimo Come stai oggi Protagonista Davvero assoluto Prima il gol Adesso Un passo Dal Raddoppio Chiaro che La Vertovese In questo finale Continuerà A Stare molto attenta Alla fase difensiva Ma non rinuncerà mai A ripartire Dall'altra parte Dalla parte opposta La Rodenza Dovrà si cercare Di spingere Dovrà si cercare Di aumentare Ulteriormente Il livello del Fossi Perché Fino adesso Non ha praticamente Creato nulla Dalle parti di No Dai Come già ampiamente detto Ma dovrà anche Stare molto attenta A non concedere Il fianco Alle ripartenze Dalla Vertovese Come ho visto poco fa Possono Essere letali Legrenzi Filtrante Di esterno Stavolta Ha cercato Da Tagliaferri Lui che Con Un passaggio In profondità Ha mandato In porta Patelli Per il raddoppio Nella sfida Con la Gavarnese Dimostrando appunto Ancora una volta Che non è solo Un giocatore Di contenimento Ma sa anche Proporre gioco Eccolo Tagliaferri Luzzana Sottraversone Palla profonda Patelli La tiene Con una gran giocata Attenzione Patelli Stop straordinario Palla rimocchio E qui Manca la conclusione Shortino Ma seconda Palla Gol Clamorosa In pochi minuti Per la Vertovese Per fare il raddoppio Davvero Ottima La gestione Dopo il vantaggio Da parte dei seriani Che hanno mantenuto Alto il livello Di attenzione In fase riflessiva Non hanno concesso niente In ripartenza Ripetiamo Hanno creato Due palle gol Clamorose Per riuscire A raddoppiare Prima Messe Taglia Gran fuga E botta Fuori di Poco Poco fa Shortino Dobbiamo dire Doveva fare di più Stavolta Nel numero 8 Assistenza Rimocchio Di Patelli Shortino Ha mancato Il pallone Sprecando di fatto La chance Da parte opposta Con il primo tiro Potenziale Verso la porta Della Vertovese Da parte della Rodense Potenziale Perché Il guardalini Aveva già alzato La bandiera Il direttore Aveva già fischiato Quindi Tutto inutile Sarà semplicemente Calcio di punizione 34 e 52 Su Cronomato Sempre 1 a 0 Vertovese Soldani Con questa palla profonda Che va a leggere Fusabassini E quindi Marchesi Uno dei primi palloni Toccati per lui E gestiti al meglio Quindi Legrenzi Messe Taglia Lavora ancora bene In fase di uscita La Vertovese Legre Lob morbido Per Luzzana I due si conoscono A memoria Da una vita Originaia Entrambi di Clusione Luzzana Shortino E poi Oldani Che fanno ancora Oltre i rischi Sull'attacco Alle spalle Tra gli afferri Mette il calcio d'angola Vuol dire Rodense davvero Si aveva fatto Pochissimo Più Madella Gole di Messe D'Aglia Non è cambiata Anche dopo Essere andata sotto Mette arriva Il terzo cambio Anche per la Vertovese Stavolta All'uscita dal campo Proprio Shortino Su posto Brambilla Fui un esterno Offensivo rapido Dentro Un altro esterno Offensivo rapido Fuori un 99 Dentro un 98 Non cambia nulla La possibilità tattica Cambiano però le forze Esce Shortino Che ha dato moltissimo Ed entra Brambilla Shortino Ricordiamo Poco incisivo In fase offensiva Ma ha lavorato enormemente In fase di non possesso Quest'azione di grande sostanza Per lui Legrenzi Dentro l'area Ha toccato Il giocatore Magliarancio Sarà altro corner In favore della Vertovese Sul pallone Sempre Legrenzi 6 uomini a saltare Dentro l'area Palla che però Stavolta non arriva La Rodense Fa buona guardia E poi Per non rischiare Qui chiaramente Non era un tiro in porta Era soprattutto Un rinvio Per evitare Eventuali Contropiedi avversari Pio Brambilla Ha sparato via la palla Siamo appunto in precedenza La Rodense Che Prima del gol Di Messe D'Aglia Ha fatto poco Primo tempo Di contenimento Senza mai ripartire Ripresa Con più possesso palla Ma senza mai calciare in porta Anche dopo Aversonata sotto Non è riuscito a rispondere Ha tenuto di più Il pallone Ma di fatto Non ha mai calciato Verso la porta di Nodai E anzi In contropiede Ha risciato due volte Di subire Il era doppio avversario Adesso Tagliaferri Patelli neanche Ancora Per puntare In velocità L'avversario Poi però Sinistro Totalmente Sballato E quindi Rinvio dal fondo Che sarà in favore Della Rodense Pantovani Qua ha risciato qualcosa In fase di uscita Forza di casa Che però riesce A far giungere il pallone Sui piedi di Tiriolo Nuove entrato La perde però Legrenzi Che ne ha ancora Oggi Ci escludiamo Il gol ha sbagliato Su fare il primo tempo Poi Prestazione di Grande livello Per il numero 7 Sia in fase di opposizione Che come di consueto In fase di costruzione Legrenzi Per la verità Protagonista in positivo Anche nella sfida Con la Gavarnese Anche lui In queste partite determinanti Ha ritrovato la forma migliore Fusabassini Scambio con Legrenzi Straordinario Fusabassini Scambio E corsa Sulla corsia mancina Trasvolata Di 50 metri Davvero Impressionante Poi traversone lungo Pagliaferri Stavolta non è riuscito A tenerla Ma davvero Impressionante In questa tendenza La sgroppata di Fusara Ha recuperato Il pallone in anticipo Scambiato con Legrenzi Buttato nello spazio E poi traversone in mezzo Come di consueto Corsa e qualità Per Il terzino sinistro seriano Adesso Caruso Prova ad incidere Dalla sinistra Ancora Caruso Attenzione Riva Perfetto Ancora una volta Dani arriva Allunga il piedone Palla pulita per lui Contro il versaglio Rapido come Caruso Non si è fatto sorprendere Arriva Postazione Fino a questo momento Immacolata Non ha davvero Sbagliato Un pallone Chiaro che Alla tenuta difensiva Abbiamo contribuito Non solo i terzini Fusara e Luzzana Ma anche Tutta la squadra Ma è detto Del terzo Ma anche degli esterni Alti che Aiutano a difendere Infatti In fase Non possesso Resta fuori Soltanto Messadaglia Qui Legrenzi Gran lancio Patelli A gancio Strepitoso Uno contro uno Patelli Raddoppiato Trova comunque Il pertugio Con Oldani Che Superato In maniera Netta Il cosiddetto Lodi Messadaglia Stavolta Non ha sbagliato Oldani Per la vita Unico errore In partita In quell'occasione Poi Dietro Ha sempre Guidato Con autorevolezza La linea difensiva Della Rodense Adesso Legrenzi Vertovese Che attacca Come se fosse Sullo 0-0 Con la palla Che però Stavolta Giunge 12 in 20 Tra le braccia Di Mantovani 47 Secondo tempo Sempre 1-0 Messadaglia Con gli ultimi minuti Qui La Vertovese Sta addirittura Spingendo Alla ricerca Della raddoppio La Rodense Che se prima Quanto meno Riusciva a gestire Il possesso Pure non Creando E rischiando Di partenza Adesso Sta addirittura Subendo La formazione Seriana Sta dimostrando Di non volersi Accontentare Del Vantaggio Sta Continuando A spingere Ricordiamo anche Che in caso Di parità di gol Al termine Dei due partite Conterà Chi ne va segnati Di più In trasferta Ed è chiaro Che il gol Relizzato da Messadaglia Pesi ancora di più Perché Realizzato Qui Allo stadio comunale Di Rò Nodari Presa sicura Fusabassini Patelli Fusabassini Aggredito Non riesce A sviluppare La manovra Può ripartire La rodense Di noto Brillante In alcune di partenze La prima fase Di match Poi In questa ripresa Anche lui Si aspetto Sicuramente Fin qui Non all'altezza D'aspettative Il reparto Offensivo Di mister Cruci Ti dobbiamo anche dire Infortunio Importantissimo Dopo Pochi minuti Di me C'ha Bomber Beretta Sotto Da Mainardi Che chiaramente Ha tolto Il riferimento Offensivo Ai padroni di casa E chiaramente Dispongono Comunque Di altre scelte Importanti Mettere già Appunto Peruchini Arrivato A dicembre Dalla Alla corte Del presidente Guerini Fagli posto E Patelli Oggi Non ha trovato Giocate risolutrici Ma comunque Portazione importante Da parte di Patelli Entra Peruchini Che vero Assolutamente Ad occupare Lo stesso ruolo Anche lui Giocatore Gran Di la rapidità Giocatore Capace di saltare L'avversario Di mettere In difficoltà Nel uno contro uno Il proprio marcatore Adesso Calcio di punizione In favore Del padroni di casa Due minuti e mezzo Più recupero Alla fine della sfida Sempre 1-0 Vertovese Che ha effettuato Quattro cambi Ne ha ancora Una disposizione Tre invece La disposizione Decise Da mister Crocitti Ancora due uomini Che potrebbero Entrare Dalla panca Anche se vediamo Che non si scalda Più nessuno Tra gli elementi In panchina Della Rodense Boldani Altro lancio profondo Con Fusabassini Che non sbaglia Il tempo Nell'intervento E spara via Tagliaferri Buon lavoro Forse anche Falloso Però così è Tietro di gara Pochi passi Dall'azione Ha visto Un aggancio Dall'avversario Quindi calcio Di punizione Per la Rodense Che adesso Prova a mettere La testa fuori Prova a reagire La formazione Di Crocitti Chiaro che ha pesato Sul morale Dei padroni di casa Aver perso Lo spareggio Dopo essere arrivata Al primo posto A parimento In campionato Playoff però Dopo con il girone Vinti brillantemente Con il successo Sull'Olimpia Il sabato scorso Oggi Fin qui Non straordinaria Certamente La posizione Dei padroni di casa Che però provano Fino alla fine A rispondere Adesso Peruchini Che è fresco E lo dimostra Andando a recuperare Il pallone prima di testa Poi a rinviarlo In rimessa laterale Con Ensa che insiste Un minuto più Il recupero Alla fine della sfida Con le mani Di Noto La classe 95 Vinti solo Andrà a saltare E cercherà Quindi La rimessa profonda Gattones è tutta chiusa A difendere Fusar La legge bene La mette fuori Castelnuovo Stavolta lavora bene Negretti Aveva voluto Regolare il suo intervento Stavolta Che è giudato Con le mani Il numero 7 Direttore di gara Pochi passi Dall'azione Se ne è accorto E ha scelto Calcio di punizione Adesso Rodensi Che prova a spingere Alla ricerca Del pareggio E Vertovese Che invece Difende Un vantaggio Pesantissimo In ottica Chiaramente Del match Di ritorno Palla dentro Palla bassa Non la gestiscono Al meglio I giocatori di casa Poi Negre Attenzione Tagliaferri Tutto regolare Attenzione Tagliaferri Contro Mantovani Campo aperto Tagliaferri Solo contro Montieri Il destro E tre Tagliaferri Ha calato In raddoppio La Vertovese Rodensi Tutta sbilanzata In avanti Contro piede Chirurgico Dei Giocatori seriani Palla profonda Per Tagliaferri Che si è fatto Oltre 50 metri Palla al piede Partito dietro La metà campo E poi Arrivato Davanti a Mantovani Sono freddissimo Non ha perso L'utilizzata Nonostante i 60 metri Di corsa Ha messo il piattone E ha segnato Un 2-0 Che pesa Come il piombo E quindi Quando siamo già arrivati Al 45-55 La ripresa La Vertovese Ha calato Il raddoppio Con Tagliaferri Un gol Pesantissimo Per gli ospiti Adesso davvero Dovranno Semplicemente Gestire questa finale Non rischiare Più nulla Mentre la Rodense Spingerà Disperatamente Per cercare Almeno Il gol Per tenere vive Le speranze Residue Di qualificazione In ottica Chiaramente Della sfida Di ritorno La partita Che davvero La Vertovese Fin qui Sta ampiamente Meritando Anche nel Doppio vantaggio Perché dopo aver trovato Il gol Con Messe D'Aglia Non ha rischiato Nulla dietro La squadra Di Mister Alberti E in contropiede Aveva sfiorato Per ben due volte Il raddoppio Con Messe D'Aglia Prima E con Shortino Poi Il raddoppio Appunto Arrivato Poco fa Con Il sub E' entrato Tagliaferri Tagliaferri Che Era già andato In maniera determinante In campo Nella sfida Con la gavanese Con l'assi per Patelli Oggi invece Ci ha messo in proprio Ha segnato proprio lui Un gol Pesantissimo 47 metri Su Conorato 2-0 Vertovese Bonetali Sul pallone Sventagliata Stavolta La legge bene La Rodense Rimessa a Terale Però Ancora Vertovese Con le mani Luzzana Con Brambilla Che qui ha cercato Il dribbling Non è passato Ma Rodense Che non accenna A rispondere Non riesce a organizzare Una reazione convincente La squadra di Crucitti Di Vertovese Continua a difendere Con grande determinazione In queste ultime battute Della sfida Qui buone taglie Poi Marchesi Che è entrato benissimo Nella partita Arriva Quindi Fusar Bassini Altro anticipo Poi stazione Impressionante Di Fusar Bassini Veramente Per quantità E qualità Perrucchini Tagliaferri Tagliaferri La protegge bene Guarda il corner Guarda il corner C'è 48 33 La Vertovese Conduce per 2 a 0 Anzi no L'ultimo tocco Tagliaferri Extra time Con le grenzi Che gioca Un alto pallone Efficace Per Tagliaferri Adesso calcio Di punizione Rodense Uno degli ultimi Assalti Possibili Per I padroni di casa E arriva adesso Il fischio finale La Vertovese Vince per 2 reti a 0 Allo stadio comunale Di Rò Grazie ai gol Messe segno Da Messe d'aria Al 17esimo E la Tagliaferri Al 44esimo Quest'azione perfetta Della formazione seriale Non ha sbagliato nulla Non ha concesso nulla E ha colpito In maniera chirurgica Rodense Che davvero Non è mai spaventato Nodari E dietro Ha spesso e volentieri Sofferto La verba Della formazione seriana E quindi Per I primi 90 De questo terzo turno Playoff di promozione È tutto Un ringraziamento A Felice La Zarina Per le riprese Un saluto Da Stefano Savoldelli Vi diamo appuntamento Tra 4 giorni Per la sfida di ritorno A Vertova Che potrebbe regalare Alla Vertovese Il quarto turno Che profuma di eccellenza Grazie 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 Grazie